In Italia ogni anno 10.000 laureati diventano dottori di ricerca, talenti preziosi che spesso non trovano collocazione nel mondo della ricerca accademica. In Italia ogni anno le imprese investono in ricerca per il 50% del totale nazionale e in personale altamente qualificato per competere nel mercato globale. Il progetto PhD iTalents nasce per generare un incontro tra impresa e mondo della ricerca pubblica, per fornire ai ricercatori uno sbocco lavorativo nelle imprese e per facilitare la selezione di giovani di talento che sviluppino percorsi di innovazione. 682 imprese e 5.530 dottori di ricerca hanno attraversato una procedura di selezione che ha valutato competenze e bisogni del settore produttivo e assegnato 136 contratti di lavoro cofinanziati dal MIUR. 6 le aree tematiche, agroalimentare, energia, ICT, mobilità sostenibile, patrimonio culturale, salute e scienze della vita. 136 portatori di innovazione da 52 università in 81 aziende. PhD iTalents ha contribuito a uno scambio virtuoso di idee e ricerche innovative, diventando un modello di placement per i dottori di ricerca. PhD iTalents sostiene i talenti e genera storie di successo. Facciamo crescere la ricerca per far crescere il paese.